Ciao a tutti ragazzi per ritornati in un nuovo video e in questo video ragazzi vi farò vedere un po' di update che ho fatto Per prima cosa ho aggiunto nuove mod Quelle dei telefoni Carica qua I telefoni Poi ragazzi tra dieci giorni cambio il computer Se ho usato la vertiglia di quello potrei capire il computer Quindi ragazzi farò video migliori Aggiungere qualcosa altro in più Qualche altra mod Però dovrò rifare tutto il mondo da capo Ok ragazzi sono Poi ho aggiunto queste robe Gli iPhone Le AirPod Tutti i tipi di Apple Watch Poi ragazzi qua ho aggiunto una roba Come potete vedere c'è GTA Minecraft C2 Joystick E il Un po' come Un po' come questo Lasciatela a perdere Ho tolto tutti i npc Ho tolto un paio di case perché ho la WarLedit Poi qua c'è la TV Vabbè qua non ho aggiunto niente Ho aggiunto l'aspirapolvere Saliamo sopra E qua ho cambiato un po' la stanza Ho tolto un po' tutto Questo togliamolo tanto non serve Ho aggiunto il mio tablet Non mi ricordo come si chiama Vabbè Poi ho aggiunto questo E poi ho aggiunto lui Che praticamente è una TV Dove si può cambiare canale Ovviamente io ho messo qualche cosa anime Però Giusto così per mettere Poi Qui c'è la stanza di Pasquale E' già entrato nel mondo Non ha acceso le luci mi sa Ah non mi sarebbe accesa Ok vabbè pure A lui ho messo un paio di queste cose Soltanto che devo aggiungere un altro po' di GIF Ma qua possiamo pure chiudere Quindi qui ho fatto Così Allora ho aggiunto il calendario Ho tolto un po' di roba Per il fatto che laggava il mondo Perché ho aggiunto tipo 20 mod Qui c'è il bagno Non so se ve l'ho fatto vedere la scorsa volta Mi sa di no Non vuole dire una cagata però Mi sa di no Aspetta Vabbè Qui c'è il lavandino Funziona? Funziona Non lo sapevo Funziona però all'infinito Non so perché Qui c'è il frigo Poi qui ho aggiunto la postazione Un'altra postazione con il computer Direttamente quello là Schermo Qui c'è quello Come vedete non c'è nessun computer Poi qua c'è la lavatrice Ovviamente non funziona Non sono solo per bellezza Quella c'è il coso Andiamo fuori Ho tolto anche un po' di roba Durarà poco sto video Ho già durato 3 minuti Non so perché Poi qua c'è l'idromassaggio Ho tolto qua Ah si raga Ho tolto io Vabbè Qui qua ho aggiunto Un robo Un coso che mi fa saltare Vabbè raga ma Secondi Vabbè raga ma lasciamo perdere Poi ho fatto uno screenshot Togliamo Scusa Zio Non si toglie Ah ecco Ok Ok raga Pellicanto si è buggato qua Cosa ho fatto? Portiamo Si è buggato qua Qua Ok togliamo Si è buggato E non si può mettere più un cazzo Se vedete che è là Raga perché il computer è vecchio Quindi lo dovevo modificare E' normale che vada così Poi qua stanno le cose da mangiare Il microonde E vabbè raga Chiudiamo il video qui Anche questo video ha durato poco Ma questa è la seconda parte di Vi faccio vedere La mia casa Andiamo un po' lontani E' un po' lontani raga Così non lagga Non lagga Nel senso La parola Vabbè ragazzi Ci vediamo in un prossimo video E con il mio iPhone XR Vi salutiamo Bella Ciao